95 milioni di euro per il franchi dal recovery fund, oltre metà dei fondi necessari al restyling. Si tratta di una svolta molto importante per lo stadio della Fiorentina, inserito tra i 12 megaprogetti di grandi attrattori culturali, con la ristrutturazione, la copertura e le nuove curve. A questo punto, ha commentato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, possiamo partire nel giro di poche settimane con la pubblicazione del bando per il concorso internazionale di progettazione. È un'ottima notizia, ha giunto il primo cittadino, conferma l'impegno del Ministero della Cultura che, oltre a vincolare questo monumento, si è attivato per trovare le risorse che consentiranno di renderlo moderno e funzionale. Dunque Palazzo Vecchio esulta, così come l'ex assessore e attuale deputata Rosa Maria Di Giorgi, membro della Commissione Cultura e Sport della Camera. Sostanzialmente viene fuori che questo stadio è comunque stato considerato ed è considerato un'opera d'arte, non si può distruggerlo come qualcuno aveva pensato di fare, possiamo però ristrutturarlo, ristrutturarlo per renderlo un luogo fruibile per le partite moderne, per il calcio moderno, per il calcio come va giocato adesso e per il pubblico che deve ospitare. Quindi questa mi sembra una bellissima notizia per la città comunque, perché ci sono i 95 milioni per lo stadio, definiti appunto e portati avanti dal Ministro Franceschini. Dopodiché c'è anche tutto il resto dell'investimento pubblico che con cassa depositi e prestiti, con altri aiuti che avremo in città, come bene va dicendo il sindaco, ristruttureranno un po' tutta quella zona intorno allo stadio, quindi il prezioso quartiere di Campodimarte.